salve a tutti sono alex il biondo benvenuti in un nuovo video siamo qui perché in questo video non ridiamo e scherziamo perché sarà un video molto serio infatti parleremo in una malattia molto grave cioè la sla che cos'è la sla come ho detto è una malattia che colpisce i muscoli e dopo qualche mese questa malattia non ti fa praticamente più muovere se costretto a stare nel letto perché proprio non ti riesce a muovere resti paralizzato diciamo vi voglio è una malattia veramente importante e per ora non ci sono cure quindi quando prendi questa malattia diciamo che ora il 90 per cento che è la morte morte sicurata e vi voglio quindi dobbiamo veramente riconoscere questa malattia cosa scritto per chi non lo sla ora vi spiego tutto qualche giorno fa piero stanco che lo salutiamo ciao piero mi ha mandato un video un video di una canzone e praticamente questa canzone parla proprio di questa malattia appena la sentite veramente bellissima e ragazzi vi lascio il link in descrizione di questa canzone perché questa ormai come sapete con le visualizzazioni tu guadagni quindi tutte le visualizzazioni che farà questa canzone è veramente bellissima ci sono anche attori famosi in questa canzone con queste visualizzazioni loro i soldi che prendono li investono li danno in beneficenza per scoprire per scoprire un modo per curare questa malattia la sla allora quindi ragazzi in descrizione andate a vedere visto che se non potete potete anche donare se volete potete donare basta un due euro basta e due euro a ciascuno veramente può rendere la vita per esempio perché ci sono c'è stato anche un giocatore che si chiama borgo borgo novo questo giocatore giocava nella fiorentina e ora è morto ora non so precisamente quando è morto ma un paio di anni fa è morto proprio per questa malattia era anche un bravo giocatore giocava negli anni 90 è stata attaccata da questa malattia quindi se non potete donare basta vedere questo video e con una visualizzazione piano piano aumentano le visualizzazioni quindi ci sono anche dei soldi e questi soldi vanno a questa malattia per curarla quindi mi raccomando in descrizione vi faccio sentire anche un po di video e mi raccomando ora dobbiamo far partire una stag ormai come dire guardate il video questo è un po il ritornello ecco qua ok questo diciamo il ritornello andate a vedere il video come vi ho detto ragazzi quindi che dire abbiamo parlato di abbiamo fatto questo video e visto che questo natale a capodanno c'è stata questa diciamo un po cacchiata di gino tutti nei commenti gino gino che alla fine non è servito niente perché gino non è che una parola c'è un nome comunque è stato un po una cacchiata dobbiamo far partire questo hashtag quindi su instagram da tutte le parti nei commenti dei sui profili dei diciamo che ne so dei giocatori a tutti quanti anche delle persone americane famose a tutti quanti dobbiamo far partire questa hashtag hashtag per chi non lo sla quindi mi raccomando anche questo qui sotto lascerò anche un cuoricino a chi lo scriverà hashtag per chi non lo sla ragazzi che dire questo video finisce qua è stato un video un po corto ma vi volevo dire di questa malattia che veramente importante e voi lo so che siete tipo un pubblico di dry 8 se diciamo un po piccini come me ma da ora lo dovete capire dovete sapere questa malattia quindi hashtag per chi non lo sla ok devo andare alla prossima volta con alex il donno hashtag per chi non lo sla